Ciao a tutti duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi ragazzi siamo qui con un nuovo video in collaborazione con Konami, a questo giro per aprire il nuovo set, il probito infinito, che sarà disponibile in tutti i negozi dal 18 luglio di quest'anno. Ovviamente al suo interno ragazzi potremo andare a trovare tante carte nuove e ovviamente supporti a mazzi vecchi, ma non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito ad aprirlo. Partiamo subito che sono molto gasato e vediamo cosa riesco a tirare fuori, perché al suo interno ragazzi potremo andare a trovare una carta esclusiva per questi 25 anni, che è una sorta di drago bianco, mettiamola così. In quelli dell'anno scorso c'era praticamente il mago nero e a questo giro è questa sorta di drago bianco. Ma partiamo subito e vediamo cosa riusciamo a trovare. Anche ragazzi il supportino Exodia, diciamo che non mi dispiacerebbe da tirare fuori. Allora abbiamo quello è un 10 e prima super di un mazzo che sarà molto forte nel prossimo formato, che è il Demo Fabro. Qui abbiamo Demo Fabro in Paradiso. Vabbè, abbiamo Gamberetto Fulminatore, Sonno Pecoram e Mementlan, che è una delle carte di supporto che sono uscite all'interno di questo set. Poi Burattino Arnese Bambola Rogue, anche questo mazzo molto interessante. Ragazzi ci si possono fare robe molto simpatiche, poi andremo a vedere effettivamente quando uscirà il prodotto. Allora, abbiamo Genda Moret, poi Guardiano della Voce Muta, Mangiatore Aereo, Carta Drytron, ok. Forza di Festa Magia Oscura, con il mago nero. Ah è vero, qua dentro ci sono anche... Cosa? La Luna del Paradiso Chiuso Comune. Interessante. Ammetto che... Bene, 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 bene. Almeno già ce l'ho. Non... Io il mio l'ho fatto. A posto. Ah poi è vero, abbiamo anche i nuovi supporti Maduro. Comunque vi stavo dicendo, in merito alla carta di prima, qua dentro ragazzi ci sarà anche un mago nero, a caso. Ma vabbè, l'hanno fatto per il mazzo Sarcopago Brillante, che alla fine ci sta. Però mi fa strano. Allora, andiamo avanti col prossimo, abbiamo Salvezza Stemma, Dora Dora, Kaiosangen, che praticamente è la nuova carta Tempai, Scoppino, ok, e Carta Valmonica, va bene. Poi vabbè, abbiamo anche Regina del Cosmo. Poi abbiamo la Sonno Pecora, un'altra luna, ok. Luce e oscurità del drago. Andiamo avanti e vediamo cosa tiro fuori da qua. Sarebbe bellina una quarto di secolo, eh. Ragazzi, se esce a sto giro sarebbe ora, visto che è da un po' che non ne sbusto una, eh. Poi abbiamo... Bellissima! No, ragazzi, la carta foresta bianca, quanto è bella. Guarda, ragazzi, questo è un archetipo incredibile. Le carte sono bellissime. A parte le carte che sono incredibili, cioè, di che stiamo parlando. Il mazzo non è neanche male, quindi anche questa mettiamola da parte insieme a lui, eh. Poi vediamo, eh. Abbiamo Gambetto, Pestia Bombardamento, Fungo Paralizzante, Ina Matsuri, e va. Prossimo pack. Diciamo siamo partiti bene, eh. Non mi posso lamentare. E abbiamo Creazione Valmonica, Carta Burattino, Sanct del Demone Fabbro, altra carta Demone Fabbro. Anche questa mettiamo da parte. Poi Principe 6. Ok. Mibigool Dungeon. Mmm, va bene. Una Ultra. Vediamo. Diciamo che non era quella che cercavo, però capiamo. Prossimo pack. Più che altro, se mi devono dare qualche Ultra, le Ultra Sarcofago. Visto che nell'ultima apertura mi è uscito praticamente quasi tutto il mazzo, quindi... Di Secret, invece, la roba foresta bianca non è male. Vabbè, carta Centurion. Onesta. Bello. Eh, lo so, ragazzi, però, la rarità Secret su queste carte rende molto di più. Cioè, se può fare niente. Vabbè. Bellini, Trio Jam. E un'altra... Oh, l'una del Paradiso. Quante me ne vuole dare? Io le metterò tutte da parte, alla fine. Abbiamo Drago Subvenenazione della Luce Finale, anche queste carte riutilizzate dall'epoca, anche questa. 5Ds, quella con i singoli. Abbiamo Mimigul Drago, ok. Un archetipo strano. Ovviamente la carta di prima va con lui, però sembra una sorta di Mostro Thun. Questa cosa mi destabilizza. Vabbè, post-opening andrò a vedermele e nel caso vi farò sapere. Allora, abbiamo Vulmina, Fungo Paralizzante, Demone Marefondo. Allora, allora, per adesso sono una Secret e una Ultra, eh. E nessun niente cuore. Vabbè, abbiamo il Burattino, Guai della Foresta, Meteoroa, Drytron, ok. Dora Dora. Un'altra Forza Riflessa Maglio Oscura, ok. Poi abbiamo, vabbè, Fanciullo della Luna, Tipistrello, Betan, va bene. Magione della Bambola e Azzanatrice Selene, va bene. Abbiamo anche Roba Raika, anche qua dentro. Visto che tanto il mazzo, se non ricordo male, è uscito nel set scorso. Quindi ci sta, comunque, mettere qualche altro supporto. Che carino. Questo non so se è il lupo che compare anche nel sincro. Adesso, se lo sbusto, ve lo faccio vedere. Poi abbiamo Carta Drytron, Commedia, Drago Evaporatore in Oscura e Parfalla Mangia Araniaraica, ok. Vabbè, poi Albero Cosmico, Azzanatrice, Fanciulla ed Essere. Allora, siamo quasi arrivati a metà del box. Probabilmente tutto il resto, tutte le altre carte belle, grosse, stanno nell'altra pila. Allora, abbiamo Sanjen, che è, teoricamente, qua dentro c'è anche un altro mostro nuovo, Tempai. E non sarebbe male neanche quello di per fuori, eh. Signore dei Bastioni, mancanti, ok. Uh, bello. La fusione da Monefabbro, che è comune. Vabbè. Probabilmente l'altro mostro, quello rosso, sarà Secret. Adesso andiamo a vedere, perché comunque, ragazzi, è la carta più forte del mazzo. E è quella da cui inizia tutta la combo, quindi vediamo. Poi, oh, può essere che fanno come Tempai, ed è tutto comune, eh. Gendamore Drytron, raccogli tra. Bellissimo. L'abbiamo chiamato? Eccolo, ragazzi, il nuovo Exodia. Il nuovo supporto proprio Exodia. Senti, lo stavo controllando, ho detto, casomai non fosse Exodia. Che carino. Fa strano, eh. Cioè, considerando che il mazzo è uscito per la prima volta in LDD, leggendo il drago bianco occhi blu, vederlo tipo 25 anni dopo mi fa strano. Però, nel senso, finalmente ha un mazzo tutto suo, tutto bello dedicato. Vabbè, a posto, mettiamola la parte. Abbiamo Despardo, anche Pipistello, Brucia, Maggiore delle Bambole, e basta. Ultimo pack della fila, e vediamo, eh. Abbiamo Sedia Foresta Bianca, Commedia, Guardiano, Principese. No, un'altra super. Il Burattino, il nuovo. E questo, se non ricordo male, aggiunge Alza Rango Magico, una roba del genere. Abbiamo Vespero, Demone Riflesso, Demone Marefondo, e la Zannatrice. Oramai sei Link, o è lei, o è la Luna. Bene, andiamo con il prossimo. Abbiamo Sancti, il Demone Fabra, anche questo da una parte. Quello è un 10. Un altro, un altro Exisa Burattino. Vespero, e poi l'altro Burattino. Prossimo pack, dai, 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 su un'altra bella Secret, o la Quarter. Quarter, non mi sembra della vista neanche. Il Golem, Creazione Valmonica, Inoltrare di Materia, e... Bellino, ragazzi, il Tempio Wedju. Praticamente il Tempio dove si... Cioè, il Tempio dedicato a Exodia. Carino, con i cinque pezzi e il mosto esuscitato che è al centro. Da squarci della storia e della carta, effettivamente. Di come effettivamente veniva idolatrato, perché comunque era una divinità. Con tutti i giri che mi faccio io, ma... 3 in 1, con io, Giamma. Lacrima del Demone Fabro, ok. E per concludere... Carta Macchina. Allora, prossimo pack. Dai, 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 su una Quarter, una Quarter, per favore. Abbiamo lo Scopino. Poi, Sylvie. Drago Sublimazione. Magi Dolce. Un'altra Super. Ah, ok. Il Demone Fabro, un'altra delle fusioni. Anche questa Super. Quindi, ancora la carta principale e il link non l'abbiamo trovata. Quindi, capiamo un attimo. Allora, prossimo. Dai, 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 dei Burattino Ornese. Il Golem. Guai della Foresta. Inoltre Torre di Materia. E un'altra Super. Anche questa, carta supporto Exodia. Ma vabbè, oramai. Dopo che hai beccato lui. L'uomo più potente del mondo. Quello che sta in copertina. Tutte le altre delle archite, un attimo un po' meno, eh. Poi, abbiamo beccato pure il Tempio. Abbiamo poi il Demone Marefondo. Bestia Bombardamento. Il Burattino. E la sequenza del Demone Fabro. Ecco, uno dei link. Adesso non so se avevamo trovato anche l'altro, eh. Ma non mi sembra. Allora. Mangiatore Aereo. Poi abbiamo Raccogli Trappola. Caglio. Dora. E Leburazione Dominus. Questa Secret. C'è un artwork fighissimo. Guarda che figata. Non riesco a capire se è un personaggio nuovo. Fa parte già di qualche lore. Vabbè. Comunque, anche la Secret l'abbiamo trovata. Bene. Adesso proviamo la Quarter. Proviamo a qualche altra Ultra. Ce l'abbiamo un attimo. Adesso finiamo di vederci questo pacchetto. Ok. E andiamo agli ultimi. Che tanto penso ne saranno rimasti 5-6. Allora. Abbiamo Drago Sublimazione. Ok. Poi il Commedia. Eh. Ce la siamo già scolerata. Attenzione alla Foresta Bianca. Sempre il mazzo Foresta Bianca che abbiamo visto prima. Poi abbiamo Demone Riflesso. Pipistrella. Regina. E Bulmia. Andiamo col prossimo. Dai, dai. Della Quarto di Secolo c'ho proprio bisogno. Cioè non puoi non darmela per tutto questo tempo. L'ultimo che ho sbustato. Boh. Sarà passata una vita e mezzo. Poi della Foresta. Ok. Di nuovo ho l'Xis Burattino Arnese. Poi Magione. Sonno Pecora. E luce riposo. Ultimi 5 pacca adesso. E andiamo a vedere. Dai. Speriamo di tirare fuori almeno una Ultra. Non dico la Quarter. Però almeno la Ultra. Dai. L'abbiamo la Principessa. Necro Equipaggiamento. Poi di nuovo lo Scopino. Salvezza Stem. Mangiatore Aereo. E di nuovo altri Centurion. Che avevamo già trovato anche prima. Poi Gamberetto. Luna del Paradiso. E Ruccia. A posto. Ultimo pack. No. Non è l'ultimo pack. Però nell'ultimo pack forse la Quarter. Così. Chiude col botto. Abbiamo il Golem. La Creazione. Drago Evaporatore. Evaporazione. Lo Scopino. E allora abbiamo Susurrus delle Spoglie del Peccato. Vabbè. Poi abbiamo Demone. Albero Cosmico. Lacrima. Sonno Pe... Però è basta. Ultimi tre pack. Dai. Dai. Ci voglio credere. Fammi... Fammi ci credere. Fammi ci credere che puoi... Puoi darmi una bomba finale. Negli ultimi pacchetti. Inoltre l'odore di Materia. Cavaliere Drago Armato. Cavaliere Drago Armato. Supporto al mazzo Drago Armato. Ok. Non me... Non me ne ero accorto. Poi vabbè. Quello che vi dicevo prima ragazzi. Il Synchro Foresta Bianca. Perché ragazzi... Speravo in Secret però... Va benissimo anche Ultra. Mazza degli artwork che non hanno senso. Quella che ha il vestito... Sembra fatto con la pelle del lupo. Vabbè. Andiamo avanti. Abbiamo la fanciulla. La magione. E l'albero. Ultimi due pack. Ci voglio provare. Ci voglio credere? Dai. Salvezza Stemma. Caio. Meteora. Mangiatore Aereo. E un'altra carta Mingul. Il Cerbero a questo giro. Mi fanno strano perché sembrano veramente Thun ragazzi. Ma è l'impressione solo mia. O Thun o bambini birichini tipo. Roba del genere. Poi Namazuri. Fungo Paralizzante. Ruccia. E Regina del Cosmo. Ultimo pack ragazzi prima di concludere. So che mi puoi dare delle gioie. Poi non è andato male. Però sai la quarto di secolo. Lo scopino. Drago Evaporazione. Drago Sublimazione. E la magia Mingulva. E va bene ragazzi. Il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto. E fatemi sapere qua sotto con un commento. Ovviamente cosa ne pensate di questo set. Perché ammetto che... Ammetto che... Vabbè. La luna comune. Megasa. L'osteo foresta bianco. Megasa. Beh c'è roba interessante eh. Poi nel senso. Non è uscito tutto. Ovviamente vi invito assolutamente andare a guardare le aperture degli altri. Così vi fate un'idea generale di tutto quello che c'è all'interno di questa espansione. Detto questo ragazzi ovviamente ringrazio nuovamente Konami per l'opportunità. E noi ragazzi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video. Ciao a tutti.